Penso che alla fine una soluzione si troverà e sarà una soluzione di compromesso e una soluzione che penso che accetteranno anche i mercati perché guardi che alla fine le polemiche di questi giorni e chi anche continua a dire ma vedremo la risposta dei mercati in realtà i mercati guarderanno la bontà del programma se è un programma effettivamente per lo sviluppo del paese oppure no non ci fa paura l'Europa, il riscontro dobbiamo averlo sicuramente dalle categorie economiche che aspettano una risposta concreta nel taglio delle tasse, nelle informe che abbiamo promesso Ok, quindi aspetti per capire, perché poi entriamo nel dettaglio dei vari provvedimenti quindi secondo lei questo rapporto deficit-pill a quanto deve arrivare? Guardi, non mi esprimo perché ovviamente è base di contrattazione tra Salvini Di Maio, Ministro Tria e Conte quindi non aspetta certamente al sottosegretario indicare la via Lo scopriremo solo direndo e vedrete che nei prossimi giorni ci siamo